Nessun decesso ma ben sette nuovi ricoveri. All'ospedale Sampio di Benevento, ora i posti letto occupati nell'area Covid sono 81 su 103 disponibili. Nelle ultime ore sono stati registrati anche 485 nuovi contagi, ma secondo gli studi del CNR la crescita del Covid nel sagno è in fase lineare e non ha ancora raggiunto il picco. Intanto l'ordine dei medici lancia l'allarme dopo due anni di pressione siamo allo stremo ed esprime viva preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario territoriale che rischia di essere travolto dal numero dei contagi di queste settimane. Poi il presidente dell'ordine si dice preoccupato per la scelta della regione di sospendere i ricoveri programmati e le attività di specialistica ambulatoriale non urgenti. Bloccare tutte le attività degli ospedali pubblici con le attività ambulatoriali sicuramente può creare dei problemi, aumenti di lista d'attesa, pazienti che non vanno a visitarsi perché impauriti caso mai da queste limitazioni. Poi ora è uscito un chiarimento a questa nota che però peggiora la situazione perché dice che deve essere il medico a decidere l'urgenza o meno del trattamento. Ma quale medico? Se non può accedere in ospedale, che visita questa persona per decidere se è urgente o non urgente? Ricade di nuovo tutto sui medici di famiglia. Ci sembra veramente una situazione un po' complicata. Abbiamo dato la nostra disponibilità totale a collaborare con la regione. Se qualche volta ci chiedessero anche il nostro parere, probabilmente essendo il nostro un parere totalmente disinteressato, potremmo anche dare dei consigli un poco più utili nella pratica quotidiana.